Dopo aver ascoltato nei giorni scorsi la protesta della Federazione Italiana Tabaccai contro la legge regionale sulla ludopatia che prevede pesanti restrizioni per gli esercizi commerciali che ospitano le slot, sentiamo oggi il parere di chi si trova a lottare quotidianamente contro il gioco d'azzardo patologico. Leopoldo Grosso, presidente onorario del Gruppo Abele a Torino, dichiara la sua opinione sulle polemiche riguardo la legge anti-slot. La legge regionale è una legge importante perché cerca di salvaguardare le persone da quello che è un prelievo, una tassa sulla loro relativa ricchezza e molto spesso anche una tassa sulla povertà perché molte persone che giocano sono persone che tentano la fortuna e quindi di avere quello che non hanno attraverso il loro reddito. Vuol dire che in genere c'è un prelievo medio pro capite annuo di 860 euro a persona. La legge regionale lo sta riducendo perché limita la possibilità del gioco d'azzardo con quel meccanismo che viene soprannominato distianziometro che vuol dire che in realtà tutti i luoghi in cui si gioca che sono troppo vicini a realtà sensibili tipo scuole, soprattutto dove sono i minori, devono osservare delle restrizioni molto precise per quanto riguarda gli orari di apertura. Quindi la legge regionale è stata una legge coraggiosa perché purtroppo i danni provocati dal gioco d'azzardo sono enormi. Innanzitutto l'aumento delle dipendenze patologiche in cura e servizi ormai abbiamo più di 12.000 persone in Italia e questa è solo la punta dell'alberg. C'è stato un indebitamento con banche finanziarie e soprattutto con l'usura. Ci sono state tragedie familiari al di là dei suicidi che a me ci sono anche stati. Vuol dire, ha avuto dire, tante separazioni familiari e c'è soprattutto anche attraverso l'aumento del volume del gioco d'azzardo la possibilità maggiore di infiltrazione della criminalità organizzata. Chiediamo che la regione alzi la voce per ottenere una legge quadro nazionale che riduca drasticamente di un terzo i luoghi e le occasioni e le modalità con cui si gioca d'azzardo oggi, che vieti la pubblicità del gioco d'azzardo, che ridia soprattutto la possibilità agli enti locali di decidere che cosa fare del loro territorio e quindi la possibilità di decidere che oggi invece non è nelle loro mani ma è nelle mani dello Stato tramite le prefetture. Oltre a questo chiediamo che vengano stanziati anche dei fondi per la cura e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico che è stato creato con la deregulation perché è dal 1999 che a un gioco oggi si aggiunge un altro. Un effetto benefico della legge regionale è stato che non si è misurata molta trasmigrazione. Le persone che avendo meno possibilità di gioco nei loro comuni non è che migrano verso quei comuni dove magari c'è invece la possibilità di giocare. Il tentativo di aggirare la legislazione c'è ad esempio l'introduzione dei cosiddetti totem che sono degli strumenti attraverso cui online si può giocare perché non sono assa quegli strumenti che sono oggi vietati dalla legislazione e quindi introdurre questi totem nei locali però il fenomeno per ora è sotto controllo ancora abbastanza limitato.